buonasera a tutti e bentrovati ad una nuova puntata di coffee time il talk show di coffee tv bene lo so che in quest'ultimo periodo non siamo stati molto presenti sotto questo aspetto del talk show però stiamo mettendo a punto tutti gli ultimi dettagli affinché questo format possa essere presente ogni settimana all'interno dei nostri video bene iniziamo subito con le presentazioni di quest'ospite assai gradito e che molti di voi avranno visto nei vari video sulle piattaforme di coffee tv sto parlando di luca di scienza e di professione fotografo ciao luca ciao ragazzi bene luca allora partiamo dall'origine come ti sei appassionato alla fotografia e il percorso affinché questa tua passione pian piano si sta e si è trasformata in un lavoro allora diciamo come mi sono appassionato sono partito penso come tutti noi da un cellulare a scattare qualche foto quella poi ho incominciato a trovare magari le macchine fotografiche degli amici dei parenti ho iniziato a fare foto un po a tutto diciamo ai fiori ai paesaggi qualche porta le persone e da lì ho capito che iniziava a piacere un po più del solito avere la sensazione di creare una foto di scattare un'immagine insomma e quindi da lì poi piano piano mi ti ho preso un po tutto il percorso diciamo bene bene è comunque una forma d'arte quindi comunque da continui stimoli è un percorso che soprattutto se fatto con passione porta grandi risultati conosciamolo ancora meglio a tutti i social diciamo pagine su tutti i social il social di riferimento al momento è instagram dove lo troviamo come luca.discienza e all'interno possiamo notare che parla soprattutto di foto di ritratto e di cerimonia perché questi due ambiti specifici allora appunto ritornando un po indietro cominciando a scattare un po di tutto mi sono reso conto che alla fine quello che voglio catturare è le persone proprio diciamo che con la foto riesce a catturare l'anima delle persone quindi mi ha reso molto felice fare questo percorso dove riuscivo magari a catturare un'espressione quanto una posa di una persona perché ovviamente per fortuna siamo un po tutti diversi dall'altro quindi ogni persona racconta una storia una storia a sé stando insomma. Ah sì certo puoi raccontarlo con un singolo fotogramma in alcuni casi è molto complicato e allora parliamo anche di un progetto che abbiamo portato avanti insieme e ci conoscevamo già in precedenza però abbiamo ripreso i rapporti grazie a un progetto ti racconto il mulile in cui abbiamo creato un connubio tra il territorio molisano e gli artisti che operano o in molise o comunque sono molisani sono molisani e stanno studiando stanno lavorando fuori regione e bene quindi questo è un progetto che tende comunque a valorizzare alcuni aspetti del molise secondo te che valore ha questo connubio. Allora come sai sono particolarmente legato al mulise al campo basso quindi per me portare avanti la nostra regione è un piacere e vorrei che tramite questi video queste foto riusciamo anche a scopare posti nuovi e portarli un po più in alto per far capire alle persone che non ci conoscono nel resto dell'italia del mondo anche perché no e qui abbiamo un grosso potenziale che non è ancora sfruttato perché purtroppo non ce lo permettono non lo sfruttano però possiamo magari dare una spinta appunto a questo percorso che porti a scoprire questa regione perché è bellissima piccola ma bella insomma certo diciamo una delle fortune più grandi secondo me per il molise è il fatto che hai tutto a portata di mano perché a livello naturalistico soprattutto perché mare e montagna laghi fiumi nel giro di buonissimi chilometri quindi per un turismo soprattutto lento è veramente intrigante da scoprire e allora luca parliamo anche di quello che hai iniziato a fare da pochissimo però può essere uno spunto anche per tutti i giovani o più grandi insomma persone più grandi che vogliono approcciarsi alla fotografia aperto un canale youtube in cui spiegherai soprattutto le regole base diciamo affinché le foto possano dare un qualcosa in più a chi le guarda allora io penso che come io tra virgolette ho studiato d'autoridatta la fotografia penso che ognuno di noi che è appassionato che comunque gli piace fare semplicemente delle foto possa fare online insomma internet abbiamo tutte le porte aperte sia a pagamento sia gratuite e spero che magari non voglio fare un canale con troppi tecnicismi appunto come ho detto nel mio primo video ma voglio fare una cosa un po più parlata ai giovani parlata alle persone normali siamo io e te faccia a faccia con la telecamera magari seduti con la telecamera magari cerco di insegnarti qualcosa per quanto riguarda la fotografia e anche magari qualcosa che riguarda la storia della fotografia perché è una cosa che mi ha appassionato la storia di molte fotografie comunque per chi volesse vedere e soprattutto chi volesse collaborare con con luca può contattarlo tranquillamente su tutti i social e parlate diciamo faccia a faccia che pure online ma voglio ritornare un secondino su ti racconto il molise il quarto episodio è uscito da pochissimo abbiamo cercato di valorizzare un'area del fiume biferno e vorrei utilizzare questo spazio per ringraziare soprattutto gli sponsor che hanno creduto comunque in un progetto autofinanziato fino a quel momento quindi comunque ci hanno dato una classe attività e soprattutto anche a tutte le persone che hanno partecipato all'interno del videoclip oltre scusami l'ultimo ringraziamento non vuole essere un video di ringraziamento però l'ultimo ringraziamento lo devo fare a me la spina che con cui abbiamo iniziato questo questo progetto ecco sto utilizzando la parola progetto talmente tante volte che la utilizzerò ancora in questo momento quali sono i progetti futuri allora progetti futuri valorizzare la regione sicuramente cercare di fare qualcosa professionalmente parlando un po più ampio che non si dimini solo alla fotografia per me ma magari un team magari collaborare con la regione magari non lo so vediamo progetti futuri ben definiti ancora non ne ho però ho tante idee che magari poi ne parleremo anche in alcune occasioni bene allora è stato un piacere comunque fare questa chiacchierata con luca lo vedete spesso su coffee tv con i suoi diciamo per valorizzare maggiormente i contenuti video che sto creando che stiamo creando allora non vi resta che seguirlo su tutti i suoi profili e fateci sapere cosa ne pensate se avete domande nei commenti non ci resta che ringraziarvi e vi aspettiamo alla prossima ciao ragazzi